Alla sera io sono entrambi, vengo da Carrara, Toscana e questa sera vi presento un coffe a base di Absolut Vanetta e il risetto passò succo di d'alma e un succo di guava. È un drink estivo, come si può capire, è stato comunque finito in una terra fredda grazie all'esperienza lavorativa di qualche mese fa e dopo tutto il freddo che abbiamo sofferto abbiamo deciso di comprare questo cocktail a base di vodka e di succhi tropicali per la tanta voglia di carbone che è che avevato e quindi questa sera vi presento a questo Rais? 335 E nel regalo del paese dove siamo beta Non c'è nessuno Si E non c'è nessuno Voi 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti